bentornati 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 sul sul canale possiamo dire siamo dire prima di tutto ragazzi non è che uno vuole fare il pignolo ma interessa veramente zero il fatto che coinvolto ci sia dunfries che dell'inter contro kane che del bayern mona veramente non è che il discorso che facevo ieri sui il problema al ginocchio diminuito ma continua un po persiste il fastidietto dietro laterale non si capisce che è però quanto pare non c'ho niente dalla visita dicevo è proprio è proprio la sensazione di un calcio che va verso un calcio di plastica questo non è ti piace qui il calcio di prima adesso è nuovo sì sì adesso è nuovo ma adesso è una merda uno dice che è una merda cioè non è che uno deve fare tanti giri di parole ripeto se un difensore non può più difendere allora chiamiamo nome chiamiamo lo chiamiamo figurante camafro dalle partime lo sapete chi è camafro qualcuno delle parti mie mi segue quindi non gli svelo nulla ma tutto il resto del pubblico non lo sa il camafro dalle mie parti è colui che viene integrato in una banda musicale con anche uno strumento maffiato eccetera eccetera ma fa solo la finta di suonare in realtà non suona è una messa in scena a cosa serve a fare numero no quindi tu vedi una banda musicale ampia però magari su 50 musicanti una decina sono camafri stanno lì fanno numero fanno finta in realtà e sta diventando così il calcio calcio per i camafri fatto da camafri e gestito da camafri a me non piace gusti gusti ragazzi a me non piace a me è un calcio in cui un difensore deve avere paura di frapporsi tra sé tra 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 l'avversario e la porta con un piede perché se quell'avversario calcia prende il pallone lo spedisce su urano ma poi nell'incedere va a cozzare col tuo piede il rigore francamente non è calcio secondo me non è il calcio è un altro calcio cambiamogli nome cambiamogli nome cambiamolo calcio dei camafri camafri in fussball possiamo chiamarlo visto che siamo in in germania ma per me così si è detto la stessa cosa conferenza stampa chiaramente parte parte l'esa carragher difensore inglese ex nazionale ex liverpool detto la stessa cosa colin andry ex difensore centrale scozzese blackburn eccetera eccetera ha detto la stessa cosa soprattutto per gli anglosassoni poi che anche ormai gli inglesi facciano delle finte dei teatri peggio dei 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 di noi latini e questo purtroppo ormai una volta si diceva eh queste cose queste sceneggiate le fai in premier league sono i tuoi primi stessi tifosi a fischiare ma manco per niente ma manco tanto è vero che bellingham che in non ieri in quel caso specifico in generale uno che accentua parecchio saca tripier veramente è diventata stones oppure l'inghilterra purtroppo è diventata la patria di simulatori o di accentuatori che poi alla fine è sempre una forma di simulazione quindi su quel discorso ma che cosa ci era mancato a noi finora no perché stava andando tutto troppo liscio no per noi che parliamo di inter per noi che tifiamo anche interno che cosa c'era mancato dai vediamo se qualcuno riesce a captare che cosa ci poteva essere mancato finora visto che appena vinto il campionato c'era stata la cosa shock dirigenza crolla se ne va su ning quindi già qualcuno lì pronosticava libri in tribunale fallimenti taglio però era durata poco perché poi ha subito messo a livello di cumulazione le 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 carte in tavola e aradrea ha fatto abbassare le orecchie a qualcuno quindi subito ali tarpate cosa c'era mancato da quel punto a oggi a crisi inter o meglio ridefiniamola ridefiniamola perché crisi inter non è più adeguato secondo me perché nemmeno i più grandi delatori oggi possono parlare di crisi ansia inter devo dire hashtag ansia inter ci sta quindi promuoviamo ansia inter come asta che ho fatto pure già stamattina su x ansia inter c'era mancato c'era mancato tanto ma dove eri finita ci sei mancato è vero che il sentimento quando è forte non accusa la distanza però ci mancavi noi ti pensavamo ti sei finalmente palesata all'undici di luglio nemmeno troppo in là ad essere ad essere sincero la mancanza sera avvertita e riecco l'ansia inter che grazie devo dire al corriere dello sport torna ad alletare le nostre giornate gli uomini mercato nerazzurri hanno un problema in più che sottintende che già i diversi problemi e te se ne aggiunge pure uno da superare nel corso delle loro trattative quindi non basta non bastavano i tipici problemi già di base che di default appunto all'inter quando le altre ha tutto liscio ma un problema in più qual è questo problema in più i paletti di octri sono arrivati pure i paletti di octri voi orfani dell'ok di suning adesso avete un nuovo padre anzi due nuovi genitori i paletti di octri ho detto genitori perché sapete no chi si ferma e che ma che roba è anzi chi non si ferma chi si muove vabbè quella roba vabbè sorvoliamo i paletti di octri l'ostacolo dell'inter non solo spendere poco quindi già sai che dove ha cioè tu che vuoi spendere ma di che ma stai stai schizzo stai buono e lì all'anno che spendi no non solo spendere poco ma mirare a giovani che creino valore il vice buchanan è in stand by ammazza che problemone il vice buchanan che poi è il vice di di marco anzi di carlos augusto che è il vice di di marco quindi il vice del vice del vice del vice è in stand by pregete che problemi troppi tre anni per il mosso troppo vecchio rodriguez baskets sì ma puntini puntini questa cosa dei puntini puntini sul cartaceo a me francamente fa sorvelo perché il puntini puntini ha preso piede sui siti perché basicamente tu non ti abboni a un sito quindi per entrare nella notizia senza scrivere già tutto nel titolo metti puntini puntini è un scamotage è un trick è un trucchetto per far cliccare sull'articolo ma non c'è niente di male perché se io già ti rivelo tutta la notizia dentro il titolo tu non clicchi e io non campo molto semplice quotidiano tu lo paghi per leggerlo quindi tu già paghi alla 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 base già paghi alla radice quindi non c'è bisogno di creare hype all'interno è chiaro che ci sono questioni di spazio ma se uno si ingegna trova pure il modo per non mettere baskets sì ma perché tanto l'ho preso già il giornale non è che lo ricompro ancora ma vabbè queste sono dinamiche giornalistiche che fanno fanno sorridere i margini per ottenere il via libera per il moso sembrano ormai davvero ridotti ma l'inter secondo te voi lo vuole veramente il moso tre anni a 5 milioni 4 e mezzo di netti a stagione per l'alternativa dell'alternativa 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 costa più lui che che il titolare ma che ma che roba è comunque nemmeno per riccardo rogriches però almeno per il momento convince octri ma non è che allora vabbè poi l'articolo è tutto su questo tema cioè l'inter già può spendere poco in più c'ha i paletti di octri che obbligano andare sui giovani come se i giovani te li regalassero ah che bello sì regaliamo il giovane in realtà a volte costa più dorme più lo sveglio del dormiente il razzo di proverbio è e siamo a questi livelli qui allora svuotiamo svuotiamo il cervello da questa roba ma voi pensate che octri vada da marotta e ausila insegnargli il mestiere ma seriamente sono linee generiche che 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 dicono preferiamo magari ringiovanire la rosa ma ma poi non vanno nel singolo non è che vanno no baskets non lo vogliamo ermoso no mi piace leoni della sampdoria e vorrei kivior dell'arco che gliene frega a loro però gli deve portare i risultati alla fine anche in termini economici tutto quello che poi arriva lì va bene se tu devi prendere rodriguez che nel frattempo ti fa arrivare ai quarti di champions non è che vanno a vedere beh però vorrei dire che sia in effetti la l'asticella della l'età media della rosa si alza a 26,7 mentre prendendo uno di 22 anni si abbassa a 26,3 e beh allora no non prendo lo dire che fa che scherzo veramente però c'era mancata tanto c'era mancata tanto grandi problemi devo dire grandi problemi dell'inter che non ha rinnovato l'autaro non ha rinnovato inzaghi non ha rinnovato barella non ha rinnovato la dirigenza non ha preso Martinez non ha preso Taremi e non ha preso Zelinsky però che ansia per l'alternativa dell'alternativa 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 ansia Inter dritto per dritto un saluto